Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di trovare il laboratorio segreto di Tony Stark alla casa sul lago, quindi questa casa qui. Il laboratorio è davvero molto semplice da trovare e adesso vi mostro dov'è di preciso. Si tratta della sfida della settimana 7, quindi una delle sfide della settimana 7. Dovete arrivare qui, a questa casa, qui dove vi ho messo il punto, vedete? Nella zona delle Stark Industries, alla dimora di Tony Stark. Ci sono due modi per entrare nel laboratorio. Uno di questi è distruggere praticamente questa erbaccia. Quindi distruggete l'erbaccia e c'è un'entrata segreta. Eccolo qua, questo è il laboratorio. L'altro metodo è entrare in casa e distruggere il pavimento, però questo è il metodo più veloce. Quindi entrate in casa e distruggete questo pavimento. Ed è la stessa identica cosa, vedete? Quindi questi sono i metodi per trovare il laboratorio segreto di Stark.